Le magliette importanti ti riguardano, perché tu hai portato oggi qui in studio delle magliette che sono vicine a te, ora verranno inquadrate, e che riportano molto chiaramente la scritta No Doping. Perché? In che occasione hai voluto indossarle e qual è il significato? Sì, allora, di concerto con Walter Pettinati, che è un amico, un ex ciclista professionista, che ha ideato questa maglia, quindi questo simbolo alla fine, abbiamo pensato di percorrere il giro delle province lombardi, quindi partendo da Milano, Piazza Castello, andando a toccare le province di Varese, Como, Lecco, Monza Brianza, Bergamo, per poi ritornare ancora a Milano, quindi in zona Piazza Duomo, che era un po' il terrazzo giusto, ideale, la vetrina, per poter mostrare questa maglia, abbiamo cercato e ho cercato di dare un messaggio importante per promuovere quello che è innanzitutto il ciclismo, ma un ciclismo etico, pulito e appunto Doping Free, che secondo me, soprattutto per i giovani, è un messaggio importante. Che deve arrivare molto chiaramente. Tra le altre cose, Antonio, durante la scorsa estate, tu hai strappato, tra i vari risultati, anche un brevetto. Sì. È vero? È vero, sì. A cosa si riferisce? Si riferisce al brevetto del Ghisallo. Allora, ho saputo di questa iniziativa, a dire la verità, ad estate inoltrata. Emanuele Marconi ha progettato e creato questo evento. Si tratta di fatto di una pedalata cicloturistica, se vogliamo, perché non c'è bisogno di fare il tempo, non c'è nessun tipo di paletto, ecco, se non quello di percorrere un circuito. In realtà sono tre. Io ho conquistato il brevetto d'oro del Ghisallo, che è riferito al circuito più impegnativo, sono circa 130 km con 3.000 metri di dislivello. Salendo su e giù per il Sacro Colle del Ghisallo, evidentemente, perché ce l'abbiamo qua, Nesso, Sormano e tutta questa zona, appunto, Lecco, arrivando da Onno, per dare visibilità ancora una volta al nostro territorio. Ecco, io ho sposato questa causa, questo progetto, proprio perché dava visibilità al territorio del Triangolo Lariano, che secondo me è eccezionale. Noi siamo molto fortunati ad averlo qua vicino e ce lo invidano un po' da tutto il mondo, gli americani, eccetera, vengono a prendere casa da noi. Anche per questa ragione. Anche per questa ragione. E come no, infatti. Anche per questa ragione, per cui non vedo perché non valorizzarlo, no? E allora si è pensato di fare questo, ho pensato di metterci la mia faccia e di dare un aiuto a questo brevetto, che poi chiaramente ha preso piede e ho visto che è stato, diciamo, portato a termine, da parecchi ciclisti, alcuni con il percorso più corto, quindi col brevetto di bronzo, alcuni quello medio, con meno chilometraggio e meno dislivello con il brevetto d'argento, ma comunque è un percorso aperto a quasi tutti i ciclisti. Insomma, quasi tutti si fa per dire. Anche perché proprio mi dai l'occasione per sottolineare che negli ultimi tempi, in effetti, il cicloturismo si è molto diffuso, c'è una grande passione, tu lo dici bene, qui ci sono dei territori che sono perfetti proprio per uscire e fare, praticare questo sport, ma secondo te c'è anche altro che ha fatto scoppiare questo amore, questa passione? Sì, penso di sì. Questo è un mio pensiero, ripeto. Il lockdown ha fatto cambiare un po' il modo di pensare delle persone, me per primo. Quindi, come si diceva prima, la libertà sembra una cosa talmente evidente, talmente quotidiana, che quando non c'è ci accorgiamo che invece è un bene preziosissimo. Quindi, secondo me, le persone in generale si sono accorte di questo e quindi hanno ricercato l'aria aperta, il contatto con la natura e quindi cosa meglio della bicicletta e per l'ambiente, dico a favore dell'ambiente, può aiutare. E può rappresentare molto bene tutto questo.